Siamo al workshop Una rotta fra le nuvole con Paolo Campoli, responsabile di architetture e CTO di Cisco. Campoli, un fenomeno del cloud è quello denominato Bring Your Own Device. In cosa consiste, qual è il suo livello di adozione in Cisco e quali risultati ha portato? Bring Your Own Device è un modello di utilizzo dei terminali prevalentemente mobili, smartphone, tablet che si appoggia a cloud come infrastruttura. Quindi sostanzialmente significa portare il tuo terminale privato in un ambiente di ufficio e inizi a utilizzare da quel terminale le applicazioni di produttività, di collaborazione, di comunicazione che ti rende disponibile l'azienda. Questo significa chiaramente poter tanto erogare queste applicazioni dalla nuvola con le opportune politiche di sicurezza, facendo in modo che per il dipendente non ci sia un cambio di terminale, lo stesso tablet che utilizzo a casa, supplementato con le funzioni di sicurezza e di policy necessarie per le politiche di Information Technology. In Cisco stiamo facendo un'adozione molto spinta, oggi abbiamo un mix di dispositivi Apple, Blackberry, Android e via dicendo. A cosa ha portato? Sicuramente a un aumento di produttività nella collaborazione tra dipendenti ma anche con i partner, in primo luogo. Una maggior flessibilità nel modo in cui distribuiamo le applicazioni ai dipendenti e poi non ultimo anche una migliore percezione da parte di noi dipendenti della vita lavorativa all'interno dell'azienda. Non è una cosa da poco ma poter usare il mio terminale, quello che io preferisco come ambiente operativo, in ambiente di lavoro mi dà un ulteriore livello di comfort e un ulteriore livello di integrazione nella vita aziendale. Quindi non quantifico come numeri ma direi che ci sono dei risultati tangibili e che vengono fondamentalmente abilitati dalla nuvola come tecnologia, dal cloud. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.